Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del Tg6, apriamo con i trasporti questo nostro telegiornale perché le questioni legate alla nascita della tua azienda unica di trasporti hanno creato una frattura netta tra sindacati e Regione Abruzzo nell'ultimo incontro davanti al prefetto di Chieti e nuovamente fallita infatti la trattativa. Oggi le sigle sindacali hanno annunciato due nuovi scioperi in programma nel mese di maggio. Francesca Romana Testi. Non si placa la quereltra Filt CGL e Regione Abruzzo sul caso trasporto pubblico. Dopo la denuncia sui vettori privati che sovrapporrebbero le proprie corse a quelle regionali, togliendo guadagni al servizio pubblico, il puntora si focalizza sull'atteso intervento legislativo che dovrebbe colmare il vulnus che ha causato l'intera questione. Proprio ieri si è svolto l'incontro davanti al prefetto di Chieti alla presenza di tutti gli attori del caso, Regione e sindacati. La Regione non ha rilasciato alcuna autorizzazione ad un vettore privato per poter espletare il servizio in concorrenza su un tratto che è contribuito e ci riferiamo alla tratta L'Aquila-Roma. Questa situazione permane. Noi in occasione della convocazione che c'è stata in prefettura per lo stato di agitazione che è stato proclamato in Tua, abbiamo avuto la presenza anche di alcuni funzionari della Regione che hanno confermato questa situazione. A seguito del mancato accordo tra Regione e sigle sindacali, la CISL-Filt annuncia due scioperi, uno nei confronti della Regione e l'altro nei confronti dell'azienda di trasporto unico Tua, entrambe previste per il mese di maggio. Uno sciopero proclamato per avere più risorse ai trasporti, visti gli ingenti tagli che sono stati effettuati sia dal Governo regionale ma anche dal Governo nazionale. Le regole proprio affinché la Regione predisponga in tempi rapidissimi un piano triennale dei servizi, i servizi minimi e anche un piano regionale sui trasporti. Noi ci aspettiamo che si intervenga dal punto di vista legislativo in tempi rapidissimi per evitare che in Regione Abruzzo permanga questa situazione di esclusività, se vogliamo, che è una sorta di giungla sulle regole. Parliamo ora di banche perché entro un mese Banca d'Italia dovrà depositare al Tar del Lazio l'atto di valutazione definitiva relativa alla procedura che ha portato all'azzeramento del valore dei titoli di Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e Cassa di risparmio di Ferrara. L'ha deciso il Tribunale amministrativo con una serie di ordinanze istruttorie decise dopo la discussione nel merito dei nuovi ricorsi presentati dal Codacons, da alcune federazioni bancarie e da alcuni soci degli stessi istituti, tutti per contestare la legittimità del cosiddetto decreto salva banche. Il Tar ha chiesto a Banca Italia anche una relazione integrativa circa lo stato del procedimento successivo alla valutazione definitiva, comprensivo di eventuali sopravvenienze, fissando al prossimo 4 ottobre la nuova udienza di merito. E parliamo ancora di occupazione perché il Vice Presidente della Giunta regionale Giovanni Lolli ha convocato un tavolo urgente per cercare di individuare una soluzione all'avvertenza del call center e care che all'Aquila impiega oltre 400 persone. Giorgio Alessandri. Un tavolo con Vodafone, i care, regione e sindacati per seguire da vicino l'evoluzione del piano industriale del call center con sede all'Aquila e chiedere al committente principale Vodafone di avere un'attenzione particolare per questo territorio per costituire le condizioni perché qui si realizzi un centro di eccellenza in termini di professionalità e prospettiva verso i nuovi mercati. E' la proposta del Vice Presidente della Regione Giovanni Lolli avanzata al termine dell'incontro dagli stesso convocato per una prima analisi della situazione all'indomani della comunicazione data alla RSA il primo aprile scorso dei vertici aziendali della reinternazionalizzazione della commessa Biottele2 da parte del cliente Vodafone. Alla riunione, oltre al management dell'ICARE, c'erano il consigliere regionale per Paolo Petrucci, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e rappresentanti sindacali dell'RSU aziendale. L'ICARE è presente all'Aquila dal 2009 ed occupa circa 400 addetti su un totale di circa 2.000 impiegati nel territorio aquilano nel settore dei call center. Nei giorni scorsi l'Oil System, che a maggio acquisirà il 100% delle quote azionarie, ha annunciato che una delle principali società committenti, la Vodafone, ha intenzione di terminare il contratto con l'ICARE, determinando ripercussioni che potrebbero interessare una quota del personale attualmente impiegato all'Aquila, circa 80 su 400 addetti. Di qui l'iniziativa di Lolli, che vuole da Vodafone, garanzie sulla disponibilità di investire sul sito aquilano, che ha tutte le caratteristiche per diventare un polo di eccellenza anche nel settore dei data center e delle telecomunicazioni. Noi dall'Aquila ci spostiamo a Pescara, due chilometri di costa interdetti alla balneazione. Il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini, firma l'ordinanza alla luce degli ultimi dati forniti dall'Arta, ma annuncia la stagione non è ancora compromessa. Intanto si attende la fine dei lavori del collettore di K15, prevista entro la fine del mese. Poi bisognerà attendere ancora le analisi sulle acque. Il comune di Pescara pubblica un'ordinanza, questo sulla balneabilità. Due chilometri che sono interdetti per adesso, ancora bisognerà vedere quello che succederà ad avvio di stagione. In qualche modo, qualcuno dice, è compromesso l'inizio della stagione estiva. Io dico sempre che bisogna conoscere per deliberare. Si parte con un divieto di balneazione esteso fino a Via Ragazzi del 99, ma possiamo guardare con ragionevole ottimismo al futuro. E lo facciamo non in base a previsioni da sciamano, ma in base al lavoro svolto questo inverno. Un lavoro teso a incidere il più possibile sulla vera causa della criticità del nostro mare, che è il fiume. Questo significa che a fine aprile terminaranno i lavori del DK15. Questo strano nome che significa collettare scarichi ed evitare che essi vadano direttamente nel fiume. Questo avrà riflessi positivi. Poi abbiamo svolto un'azione di monitoraggio ampia sul fronte scarichi civili e scarichi abusivi. Stiamo, per quello che è possibile, tappando tutti gli scarichi. E l'esame dei dati, anche questa è una novità, perché noi abbiamo monitorato i dati del mare e del fiume lungo tutto l'inverno, mostrano una tendenza positiva. E quindi possiamo pensare che questo divieto ampio con cui si parte potrà essere ridotto. Adesso i punti di campionamento sono nove. e vengono ripetuti ogni 15 giorni. Vengono ripetute queste analisi e dobbiamo attenderci due campionamenti consecutivi positivi onde poter procedere alla rimozione del divieto di balneazione. La nostra proposta di istituire una autorità dotata di pieni poteri per coordinare le azioni di contrasto all'inquinamento trova ora ulteriore attualità in relazione di vieti di balneazione imposti su un tratto del litorale di Pescara. Lo afferma il segretario nazionale di CNA Balneatori Abruzzo, Cristiano Tomei, secondo il quale occorre un atto di sensibilità istituzionale da parte del presidente della regione Luciano D'Alfonso nell'accogliere la richiesta formulata nelle scorse settimane dalle imprese balneari aderenti alla CNA. Dice ancora Tomei al Comune che pure si sta prodigando sul terreno del risanamento degli scarichi abusivi e sul completamento di opere importanti per la depurazione ed il collettamento delle acque chiediamo una operazione trasparenza nei confronti della pubblica opinione ovvero la puntuale comunicazione di tutti gli interventi programmati, dei loro tempi di attuazione e dei loro esiti. Cambiamo pagina, continua il botta e risposta tra le due organizzazioni di protezione civile a Teramo. Oggi in conferenza stampa è arrivata la replica alle dichiarazioni fatte ieri dal presidente del CIVES da parte del numero uno della Gran Sasso, Elisa Leuzzo. Se c'è un settore nel quale non vale il principio della territorialità, quello è proprio la protezione civile. Così il presidente dell'associazione denominata Gran Sasso d'Italia in risposta alla CIVES di Teramo. Il senso nel quale deve andare il volontariato anche quello di protezione civile e quello aggregativo. Noi siamo inclusivi, quindi non siamo esclusivi e continuiamo la nostra opera soprattutto a disposizione e in relazione a tutti. Anche la CIVES che è un'associazione che ha una grossa struttura volontari formati e che ha la sua storia. Il nostro progetto parte da un'idea nata nel 2014 a febbraio 2014 che poi è stata recepita in qualche modo da una delibera del 2014, aggiunta regionale, che inizia a regolamentare, a creare delle condizioni per creare delle aggregazioni territoriali. I volontari di protezione civile a volte si trovano a spalare il fango per emergenza. Ecco, in questo caso, in maniera così ideale, sta succedendo la stessa cosa. I volontari di Gran Sasso d'Italia lo spaleranno, questo fango lo metteranno ai bordi della strada e continueranno a percorrere questa via che ormai è andata. Perché Teramo? La sede di Teramo? Perché da Teramo è arrivata un'istanza di alcuni volontari che hanno chiesto di costituirsi come sezione. Noi, seguendo lo statuto, seguendo quelle che sono le procedure interne appunto dello statuto stesso, abbiamo fatto le valutazioni. Il consiglio direttivo che è espressione delle territorialità presenti, quindi sono otto comuni, hanno fatto una valutazione e hanno deciso di accogliere questa espressione di volontari. Diversamente questa sarebbe stata una risorsa sprecata. Ha chiarito alcuni passaggi dello scontro, infine come lo commenta? Perché secondo lei questo scontro? Io non lo commento. Avrei preferito, come ho chiesto prima che iniziassimo questa avventura, un colloquio seduti a un tavolo. Quindi non so nessuna polemica di queste. E' vero che la lingua italiana è stata colonizzata dalle parole straniere ed in particolare dall'inglese? Se ne è discusso questa mattina a Pescara nel corso di un convegno organizzato nella sede della provincia dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Alfredo Primante. Brand, spending review, jobs act, welfare, local tax. Potremmo continuare a lungo ad elencare le parole prese soprattutto dalle lingue inglese che hanno contaminato l'italiano e che ormai sono diventate di uso comune. Ma quanto queste parole sono comprese dall'opinione pubblica? La risposta è poco se pensiamo che 6 italiani su 10 non conoscono nemmeno le basi di una lingua straniera. Del ritorno all'utilizzo delle parole italiane, laddove ci sia il corrispettivo del termine estero e di quanto sia ormai contaminato il linguaggio dei mass media, si è discusso a Pescara in un convegno organizzato dall'Ordine dei giornalisti e intitolato l'italiano al tempo della globalizzazione, a cui ha partecipato tra gli altri il presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini. Non si tratta di un ritorno all'autarchia o di mero conservatorismo, si è detto durante il convegno, ma di salvaguardare l'identità nazionale che passa anche e soprattutto attraverso l'uso di una lingua comune, l'italiano. Dove c'è maggiore ignoranza, maggiore trascuratezza, maggiore arroganza, e spesso nelle istituzioni pubbliche questo c'è, allora si apre, non per necessità ma per esibizionismo, a parole straniere. Gli scambi tra le lingue sono necessari, ci saranno certamente tante parole che dobbiamo acquistare adattandole, traducendole. Di chi è la responsabilità di questa situazione? Di tutti noi, i parlanti, coloro che la parlano, e soprattutto quelli che si danno aria di essere i decisori per gli altri. I giornalisti devono stare molto attenti, spesso non solo loro che li inventano, li introducono, che li vogliono imporre, ma sono spesso purtroppo passivi. Cambiamo pagina, si è svolta questa mattina presso la sala consigliare della provincia di Teramo la cerimonia di premiazione del concorso Un Sacco in Comune a Tutta Plastica, primo classificato il Comune di Giulianova. E il Comune di Giulianova è il vincitore della prima edizione abruzzese, denominata Un Sacco in Comune a Tutta Plastica. Il Comune si aggiudica un'area giochi in plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata. Al di là del premio ritengo che oggi abbiamo fatto una cosa di importante, abbiamo rafforzato l'educazione ambientale al rispetto dell'ambiente e della buona pratica della raccolta differenziata. È vero, Giulianova ha fatto un più 44% sulla raccolta della plastica, il che dice molto sull'attenzione che i cittadini riversano nei confronti della nostra città. Solo grazie all'educazione, alla divulgazione, all'informazione, anche all'interno delle scuole soprattutto, riusciamo a mantenere alto il livello di guardia e a consentire che la nostra città rappresenti un'eccellenza sulla raccolta differenziata. Il secondo classificato è Roseto degli Abruzzi, con più 13%, infine terzo Teramo, con un più 9%. Oggi il Corevla ha ricordato che l'Abruzzo è una delle regioni che ha la più alta percentuale di plastica, a chilogrammi pro capite delle regioni del sud. Siamo secondi soltanto alla campagna, con 14 chilogrammi pro capite la campagna ne ha 16. E ci sono diverse regioni anche nel nord che sono dietro all'Abruzzo, il che sta a significare che grazie ai cittadini abruzzesi si riesce a raggiungere questi ottimi risultati. Su Teramo si sta lavorando anche per facilitare un po' di più e abbassare i costi della raccolta differenziata? Noi stiamo intorno al 62%, quindi abbiamo per differenza un 38% di indifferenziata. Se riuscissimo a ridurre questa percentuale vorrebbe dire risparmiare diversi soldi. È un messaggio che va dato ai cittadini, dipende da loro principalmente, perché sono loro che fanno la raccolta differenziata. Questo risparmio servirà poi un domani a ridurre i costi dei bollettini tari. La Fondazione Dean Martin ha consegnato un premio questa mattina a Pescara ad un uomo che si è distinto per l'opera umanitaria e caritatevole profusa nei paesi più svantaggiati. Si tratta del missionario Don Bruno Giuliani, originario di Capestrano, impegnato da anni a sostenere le popolazioni in difficoltà in Brasile. Un premio per l'impegno profuso, per aiutare gli altri, lo spirito umanitario. Questo è il premio Dean Martin, viene consegnato in anticipo perché il suo impegno è in Brasile. Io sono venuto qui per due motivi. Primo quando mi hanno detto che volevano darmi questo riconoscimento, mi è piaciuto non tanto per la mia persona quanto per un'altra manifestazione che la Chiesa è sempre presente quando c'è bisogno. Secondo perché ho conosciuto giorni fa vari parenti che sono venuti dall'Australia, figli del mio zio, che non conoscevo né io né la mia famiglia. L'origine abruzzese di Capestrano. Ah sì, di Capestrano, sì. Però ho visitato buon parte dell'Abruzzo perché papà, come funzionario pubblico, legato un poco al denaro, alle tasse, eccetera, era trasferito ogni sei mesi. Solo la scuola elementare l'ho fatto in più di dieci paesi abruzzesi. L'Abruzzo si preoccupa di trovare tutti i suoi rappresentanti in giro per il mondo. In questo caso un rappresentante che va a approfondere un aiuto umanitario nei paesi dove ci sono davvero tante difficoltà. In questo caso si parla del Brasile. Ecco, questo è un premio particolare. Questo nostro rappresentante, Don Bruno Giuliani, ha dedicato la sua vita a un'attività di pastorale sanitaria. Quindi ha guardato le difficoltà della gente, ha costruito le condizioni perché ci fossero gli elementi per curarli e soprattutto ha fatto sentire la sua vicinanza come supporto psicologico alle tante persone della nostra regione, della nostra Italia, che in quelle terre vivono momenti difficili. E noi parliamo ancora di solidarietà perché questa mattina, sempre a Pescara, è stato presentato un libro con una raccolta di favole il cui ricavato sarà devoluto all'Agbe, l'associazione al fianco delle famiglie dei piccoli pazienti affetti da leucemie. I racconti sono stati scritti da un pediatra che per anni ha operato nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pescara. Dopo aver per tanti anni curato e essere stato a fianco dei bambini dell'Agbe, a fine della carriera decide di fare una raccolta di favole, scritte e realizzate proprio da lei e destinare i fondi proprio all'associazione. I bambini sono coloro che io ho visto per tutta la vita, sono stato sempre in mezzo a loro e ho fatto questa cosa, insomma questo piccolo contributo che vorrei destinare all'Agbe. Ogni favola è stata animata da un disegno realizzato proprio da uno dei bimbi dell'Agbe. Sì, è stato così. Abbiamo dato al comitato direttivo dell'Agbe queste favole e i bambini, sia quelli dell'Agbe che alcuni altri bambini anche del mio studio, hanno con gioia, forse non tutte ci sono le opere fatte dai bimbi. Abbiamo raccolto quelle che era possibile raccogliere. Una prima tiratura di 200 copie, l'ambizione è quella di poterne fare un'altra grazie a una bella vendita. Sì, fondamentalmente i costi sono stati coperti tutti da sponsorizzazioni e io posso solo ringraziare le persone che hanno messo anche un minimo contributo perché le spese sono tutte già state coperte. Quindi l'intero ricavato della vendita del libro andrà direttamente all'Agbe senza ulteriori passaggi. Quello del trasporto è uno dei servizi più importanti dell'Agbe perché dà modo a tante famiglie di non spendere assolutamente niente per poter portare i bambini al dei hospital. Abbiamo implementato il numero di mezzi, tu dicevi bene, per non far perdere soldi alle famiglie, ma soprattutto per non far perdere posti di lavoro alle famiglie, ai genitori, perché non dimentichiamo che molti genitori rischiano il posto di lavoro, alcuni praticamente hanno perso il posto di lavoro. Come amministrazione è un dovere essere accanto a un'associazione come l'Agbe che tutti i giorni lotta per cercare un supporto non soltanto per i bambini che sono malati ma soprattutto per i genitori, per una famiglia che ovviamente è provata da un momento davvero difficile. E ora parliamo di un progetto del fotografo aquilano Stefano Colacchi che mette in risalto la bellezza e la voglia di rinascita delle donne aquilane nel post terremoto. Daniela Rosone. Girls in Sport è il progetto del fotografo aquilano Stefano Colacchi. 12 discipline rappresentate da altrettanti atleti aquilane. L'energia e la femminilità esaltate attraverso gli scatti fotografici. Donne che tendono ad occultare nelle gare il loro lato femminile che il fotografo invece attraverso la sua arte è riuscito a cogliere perfettamente. Dal corpo femminile possiamo avere tante sfaccettature diverse quindi dalla bellezza all'energia alla sensualità di una donna che racconta il suo sport attraverso un'autobiografia perché questo progetto che racchiude 12 sport, 12 discipline sportive vengono raccontate attraverso un video dove le ragazze raccontano la loro autobiografia e attraverso un articolo stampa dove verranno fatte vedere le fotografie più belle con la loro biografia scritta. Atlete ritratte durante gli allenamenti ma anche nei momenti di vita quotidiana in set cinematografici naturali. L'obiettivo principale di Colacchi è stato anche attraverso i suoi innumerevoli progetti fotografici sul territorio mettere in luce quanto di bello abbia l'Aquila in questo momento da offrire. Lo sport è come la musica, cioè lega la gente e quindi il tessuto sociale che in questo momento in questa terra è un po' dislocato lo sport lo riesce un po' a riamalgamare. Domenica 1 maggio coincide con l'iniziativa ministeriale Domenica al Museo che prevede l'ingresso gratuito in tutti i musei e le aree archeologiche nella prima domenica di ogni mese in tale occasione la soprintendenza archeologica dell'Abruzzo ha organizzato l'apertura dalle 14 alle 20 e la visita guidata nelle seguenti aree archeologiche ad Alba Fucens in provincia dell'Aquila ci sarà una passeggiata nella città romana a cura della dottoressa Emanuela Ceccaroni mentre a Montenero Duomo sarà possibile visitare l'area archeologica Ivanum e il museo della città romana. Noi passiamo allo sport per parlare di calcio del Pescara che prosegue la preparazione in vista della gara di sabato in casa della Virtus Sentella a Chiavari una partita importante attende i biancazzurri nelle ultime ore è arrivata però una notizia non sicuramente positiva per quanto riguarda l'attaccante Daniele Verde che è a causa dell'infortunio rimediato nella gara con il Brescia dovrà restare lontano dai campi di gioco per un mese e noi andiamo ad ascoltare oggi il difensore del Pescara Michele Fornasier Hai giocato al fianco di Zuparic, hai giocato con Campagnaro da qualche settimana stai giocando con Mandragora e i risultati dicono che questa è una coppia di centrali difensivi davvero importante per il Pescara Sì ma più che altro per i risultati perché si sa che è così però a prescindere da quelli chiunque è entrato in campo ha sempre dato il massimo e questo è fondamentale, non è solo i centrali o la difesa o il portiere ma è tutta la squadra come ho sempre detto la difesa parte anche dall'appadura, dal nostro primo attaccante e quando tutti danno una mano è più facile per tutti Michele parliamo di questa gara di sabato a Chiavari troverete di fronte un brutto cliente e tu probabilmente dovrai marcare un giocatore come Caputo che è un giocatore che quest'anno sta facendo molto bene Sì è una squadra fortissima, molto preparata sappiamo che può metterci in difficoltà poi giocano in casa quindi dobbiamo stare comunque attenti i giocatori ce li hanno come ormai tutte le squadre di Serie B hanno un grosso potenziale però noi andremo lì come facciamo sempre daremo il massimo e cercheremo di portare a casa un buon risultato Parlando ancora di questa partita quali potrebbero essere le insidie della sfida di sabato? Un campo piccolo, una squadra che in casa sa farsi rispettare? Di sicuro, certamente l'hanno dimostrato è un campo piccolo, sintetico però come dicevo prima non dobbiamo trovare alibi dobbiamo andare lì con la stessa mentalità di queste ultime partite dare il massimo, ognuno dal primo all'ultimo e poi i risultati arriveranno Quattro partite Pescara punterà a fare il massimo 12 punti incontrerete una squadra in lotta per i playoff e poi tre squadre che invece devono cercare la salvezza Sì, assolutamente è durissima perché si sa che soprattutto alla fine le squadre che lottano per salvarsi danno tutto veramente tutto di più quindi dovremo stare attenti ma pensiamo partita per partita ora come ora c'è l'entella e siamo concentrati su di loro poi si prenderà quello che viene E ora parliamo del Lanciano che sabato ospiterà il Guido Biondi-Lavellino una gara assolutamente da vincere per i rossoneri che devono cercare di allontanarsi dalla zona caldissima della classifica noi andiamo ad ascoltare il tecnico frentano Primo Maragliulo Vi ricordate la settimana scorsa quando ci siamo visti qua credo che qualcuno mi abbia fatto una domanda e io ho detto metto la firma per il pari dopo che ho detto una cosa del genere non posso essere incoerente e dire no volevamo i tre punti abbiamo preso un punto con una prestazione bellissima io sono felicissimo di questo anche se dopo in tanti sono rimasti un po' rammaricati perché guardando la partita più di qualcuno ha detto che potevamo anche conquistare la vittoria può anche essere vero però a me rimane la grande prestazione dei ragazzi e anche il fatto che se non avessimo giocato in quella maniera probabilmente con una squadra come il Cagliari non saremmo usciti sicuramente indenni dal campo l'atteggiamento durante la settimana durante tutti i giorni anche nel momento in cui ci parlo con loro non solo mi fa ben sperare ma mi fa capire che i ragazzi ci sono detto questo è chiaro che non posso garantire che vinceremo tutte le partite non si può fare neanche a meno purtroppo a questo punto del campionato quando finiscono le partite di guardare anche gli altri risultati però è anche innegabile che prima di tutto devi guardare a te stesso perché se tu non fai il risultato è inutile pure che guardi gli altri specialmente adesso in questa situazione dove l'unica cosa che cambia l'ho detto anche ai ragazzi è che veramente mentre prima ti potevi permettere di poter sbagliare ancora una partita adesso questo non lo possiamo fare e ci rimane in testa consapevole questa situazione e l'affronteremo come dobbiamo Siamo alla Lega Pro perché il Teramo ha archiviato il discorso salvezza è già proiettato alla prossima stagione a tenere ovviamente banco sono i movimenti in società ancora presto per il discorso allenatore per capire chi resterà fra i giocatori nel prossimo campionato tra i senatori della squadra bianco-rossa c'è Stefano Amadio che andiamo ad ascoltare nella tradizionale conferenza stampa tenuta al Bonolis Personalmente ma penso anche gli altri eravamo partiti per fare un campionato un po' più importante poi le varie dinamiche è andata così però è chiaro che per fare questo mestiere i motivazioni devi trovare da solo e quindi penso che due partite che rimangono le dobbiamo onorare al meglio e fare due grandi partite e poi si comincerà a pensare l'anno prossimo io come sapete c'è un altro anno di contratto qua sto bene pensiamo a finire queste due partite e poi ne cominceremo a parlare ma è chiaro che è il mio mestiere mi piace giocare mi piacciono le partite quindi è chiaro che mi piacerebbe proiettarmi all'anno prossimo però prima ci stanno queste due partite bisogna farle bene ritengo quella di domenica una partita importante perché comunque vogliamo mostrare che siamo all'altezza della spalla soprattutto in casa perché in casa è dove abbiamo dimostrato di valere qualcosa in più della salvezza secondo me perché non l'abbiamo mai perso perché abbiamo vinto tanto perché penso che il reale valore del Terramo sia quello che siamo riusciti a esprimere in casa e dove abbiamo difettato un trasferto e ora chiudiamo con una informazione di servizio perché la Mediasix SRL titolare dell'impresa di radiodiffusione televisiva in ambito locale denominata TV6 informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno di quest'anno a tal fine informa altresì che presso la propria sede ubicata a Silvi strada statale Nord 26 al numero telefonico 085 93 0020 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse e concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti a pagamento con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati le modalità di prenotazione dei suddetti spazi le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi quali autonomamente determinate dalla Mediasix SRL e ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi e questa era l'ultima notizia per quanto concerne la prima edizione del nostro telegiornale vi ricordo la seconda edizione questa sera alle 19 grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie a tutti